Iniziano a scorrere impietosi i titoli di coda sull'esperienza del Brindisi in Serie C. La sconfitta interna maturata domenica contro il Taranto non ha matematicamente messo la parola fine al campionato, ma di fatto ha sancito la virtuale retrocessione della formazione bianca-azzurra. Alla prossima sconfitta, infatti, i messapici saluteranno con certezze professionisti dopo una sola stagione dell'atesissimo ritorno in terza serie. Triste fotografia di un torneo costellato dalle mille difficoltà calcistiche, ma soprattutto extracampo. La Serie D in pratica potrebbe già arrivare sabato prossimo in occasione del derby casalingo con la Virtus Francavilla, qualora la compagine allenata da Alberto Villa dovesse espugnare il Fanuzzi e condannare così gli adriatici all'undicesimo KO tra le mura amiche del comunale di Via Brin. È partito insomma una sorta di countdown negativo, ma a cinque giornate dal termine della regular season con l'ombra di nuove penalizzazioni sul groppone praticamente inevitabile. Nonostante le avversità e una retrocessione ormai certa, il Brindisi però non molla e promette di onorare il campionato fino alla fine, fino all'ultima giornata. È questo il diktat ripetuto più volte nelle ultime settimane dall'allenatore bianca-azzurro Nicolà Losacco e in generale anche da tifosi che proseguono la loro forte contestazione all'indirizzo della proprietà, ma allo stesso modo riconoscono e apprezzano la voglia della Rosa. Da qui gli applausi al triplice fisco del derby con il Taranto ed ora l'attenzione è puntata su quanto potrebbe accadere sul fronte societario. Si parla di incontri che sarebbero avvenendo nella capitale in queste ore. Da lì potrebbe arrivare forse la svolta per il futuro del calcio in riva all'Adriatico.